Sono Cristina D'Acceredo, titolare assieme a mio marito, Marino, della gelatteria e caffetteria Snoopy. È stato un anno difficile nel nostro settore. Il cambiamento più forte è stato quello di reagire subito nel momento del lockdown. Beh, allora, l'MBS non era presente, però le persone che si trovano in MBS sono sempre state presenti. Io personalmente sono stata molto aiutata dai consulenti, uno a caso, Elisabetta e Filippo, che comunque non hanno mai mollato un attimo per aiutarmi, soprattutto a livello psicologico e morale, e per dare anche la forza e la volontà di andare avanti. L'MBS è scontato dire che è una scuola di vita, ma è un luogo dove si incontrano persone bellissime, dove ci si sente a casa, si incontrano tanti amici, ci si incontra tra tanti imprenditori, e si scambiano idee, esperienze personali ed è un posto dove si trova anche motivazione per andare avanti.